Sotto il governo di Narsete e con particolare intensità in Liguria, scoppiò una gravissima pestilenza. Improvvisamente sui muri delle case, sulle porte, sul vasellame, sui vestiti apparivano certe macchie che più uno si sforzava di lavare le vie, più e più invece si rafforzavano. A un anno di distanza da questo fenomeno la gente cominciò a soffrire di ghiandole grosse, presa poco come una noce o un dattero, che si formavano a linguine o nelle altre parti del corpo più delicate e a cui faceva seguito immediatamente un'intollerabile arsura e una febbre da portare a morte nel giro di tre giorni, che se uno invece fosse riuscito a superare questo periodo poteva nutrire qualche speranza di sopravvivere. Dappertutto solo dolore e lacrime. Poiché la gente era comunemente convinta fuggendo di evitare la morte. Nelle case vuote ed abitatori rimanevano solo i cani e solo il gregge restava nei pascoli, non custodito da nessun pastore. Su villaggi e borghi già pieni d'uomini, nell'indomani, dopo che la gente se n'era fuggita, regnava un profondo silenzio. Fuggivano i figli lasciando insepolti i cadaveri dei genitori. I genitori, dimentichi del frutto delle loro viscere, abbandonavano i figli in preda alla febbre. Se l'antica pietà ancora spingeva qualcuno a voler dare sepoltura al prossimo, poi, perendo di quel che compiva, era lui a rimanere senza sepoltura. E mentre si sforzava di recare ad altri le estreme onoranze, ne restava privo. Il mondo pareva ricondotto al silenzio di ere lontanissime. Non un grido nelle campagne, non il fischio di un pastore, non un'aggressione di fiere contro le gregge, non un furto nei pollai, i frumenti, con il tempo di mietere ormai trascorso, aspettavano ancora intatti il mietitore. Le vigne, nell'inverno che già si avvicinava, mostravano sui tralci senza foglie i grappoli lustri. Non si vedeva ormai di gente che viaggiasse, né si compivano più assassini. Eppure, i morti erano tanti, tanti che occhio umano non avrebbe potuto contarli. Gli antri dei pastori diventavano sepolture umane e le case degli uomini, rifugio di fiere. La storia dell'umanità è una storia di conquiste, di progresso, di miglioramento del benessere e di una maggiore libertà. Ma è anche una storia drammatica, di guerre, di crisi, di povertà e di epidemie. Che cosa ci dice a proposito di quest'ultima allora la storia? Nel corso del tempo gli uomini sono stati colpiti dalle malattie più varie, spesso drammatiche, come l'influenza spagnola che lasciò sul terreno decine di milioni di vittime. Ma quella che più di ogni altra si è impressa nell'immaginario collettivo è stata la peste. La cosa non è difficile da spiegare. Quando si sia manifestata per la prima volta e da dove si sia propagata è tuttora oggetto di ipotesi evanescenti. È invece certo che per oltre un millennio il nostro continente è stato percorso da ondate successive di pestilenze devastanti. La prima fu la cosiddetta peste di Giustiniano, che raggiunse Costantinopoli fra il 541 e il 544 d.C., mettendo centomila vittime nella sola città e propagandosi in seguito in tutto l'impero, dove sopravvisse allo stato endemico per oltre 200 anni. La seconda ondata iniziò con la peste nera, quella immortalata da Boccaccio, che dilagò in tutta Europa, ad eccezione di piccole enclaves, fra cui Milano, fra il 1347 e il 1351, provocando la morte di circa un terzo della popolazione. Una falcidia che non aveva precedenti. Di lì a qualche anno la pandemia si attenuò, ma non scomparve. Notizie sempre più accurate testimoniano che nei quattro secoli successivi tutte le grandi città europee furono duramente colpite. Possiamo ricordare Milano, invasa dalla peste nel 1576, che vide a correre fra gli appestati San Carlo Borromeo e quella del 1630 rievocata dal Manzoni. Poi Firenze, Venezia, Amsterdam e ancora la grande peste di Londra del 1665-66. Il ciclo si concluse nel 1720 con la peste di Marsiglia che stroncò la metà dei suoi abitanti. Una terza ondata prese avvio in Cina, nel 1855, raggiungendo di lì a poco l'India, dove morirono più di 12 milioni di persone, estendendosi in seguito agli altri continenti. Ancora oggi non mancano focolai di peste, ma le loro conseguenze sono assai meno letali. Come reagirono i nostri antenati di fronte a questo nemico invisibile? Si potrebbe pensare che, privi come erano di conoscenze mediche, si rifugiassero fra le braccia della provvidenza o accettassero passivamente il loro destino. Accadde anche questo, ma le pubbliche autorità non si arrestarono di fronte al flagello e adottarono ben presto misure che riecheggiano da lontano quelle odierne. Fra 300 e 400, ogni volta che si profilava il pericolo di un'epidemia o si avevano notizie di un focolaio, Milano, Venezia e Firenze crearono uffici di sanità per adottare i provvedimenti più urgenti. Se non conoscevano le cause delle epidemie, erano ben consapevoli che la loro diffusione dipendeva dalle relazioni commerciali e dalla circolazione degli uomini. E sapevano anche che occorreva intervenire tempestivamente. Data la frequenza delle epidemie, queste città, alle quali si aggiunsero più tardi alcuni centri europei, crearono strutture permanenti con il compito di raccogliere informazioni, prestare attenzione ad ogni indizio, non dimenticando di tenere in molti casi elenchi aggiornati dei medici per mobilitare all'occorrenza tutte le risorse disponibili. C'erano ovviamente anche misure repressive per chi violava i decreti dei magistrati e misure preventive per i medici che erano dotati di una curiosa mascherina con un naso molto allungato, al cui interno venivano posti profumi e presunti disinfettanti che avrebbero dovuto proteggerli. La lotta contro la peste combattuta nei secoli scorsi ha avuto successi ed insuccessi, come sempre accade in queste circostanze. Ora sorge spontaneo il desiderio di fare un confronto fra ieri e oggi, magari per renderci conto di che cosa ci ha insegnato o non insegnato la storia. Si tratta di un confronto difficile, azzardato, perché il contesto sociale ed economico è molto diverso da quello del passato e perché le conoscenze scientifiche sono oggi incomparabilmente maggiori. Tuttavia qualche considerazione si può fare perché ogni crisi induce a riflettere sui problemi irrisolti della società. Molta attenzione viene oggi prestata più che in passato alle conseguenze economiche che non saranno di poco momento. Esse riguarderanno la capacità produttiva delle imprese, i posti di lavori da cui dipende il destino di molte famiglie, gli strumenti più appropriati per raccogliere le risorse necessarie per gli investimenti e per il sostegno ai più deboli. Si dovranno adottare misure incisive che comporteranno sacrifici per tutti, ma non dobbiamo dimenticare che le crisi rappresentano un'occasione propizia per eliminare le scorie del passato e ripartire su basi nuove, correggendo quindi le ingiustizie più evidenti, come ad esempio l'insopportabile concentrazione del reddito e della ricchezza in poche mani. Dalla crisi ci solleva a patto di sapere adottare le giuste misure, a partire dalla consapevolezza che nell'era della globalizzazione i nostri paesi, anche quelli apparentemente più robusti come la Germania, sono troppo piccoli e le misure nazionali sono del tutto insufficienti per affrontare adeguatamente i problemi che incombono sui nostri paesi, sull'Europa e sul mondo. Diventa perciò sempre più evidente che un ruolo cruciale può svolgere soltanto un'Unione Europea fondata su nuove basi. La lotta contro il coronavirus ha dimostrato una volta di più che la solidarietà che solo negli ultimi giorni sembra aver preso, almeno a parole il sopravvento, non basta. Per adottare misure rapide ed efficienti di fronte ad emergenze come quelle che stiamo vivendo e per mettere in cantiere una ripresa economica che non dimentichi i valori fondanti dell'individuo e della società, occorre un governo europeo e non un simulacro come la Commissione di Bruxelles. Occorrono gli Stati Uniti d'Europa reclamati dal Tiero Spinelli fin dal 1941. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci vedete? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.